Un saluto telespettatori di Le Fonti TV, siamo qui per un'altra puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Presento subito i nostri ospiti di oggi che sono l'avvocato Elvira Carpentieri, co-fondatrice dello studio legale Cacciola Carpentieri. Un buongiorno e benvenuta. E l'avvocato Francesco Cacciola, co-fondatore dello studio legale Cacciola Carpentieri. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno, grazie. Ecco, io presento brevemente la vostra realtà perché avete vinto il prestigioso premio Le Fonti come miglior studio legale d'Italia 2021 in ambito crisi di debito e mi rivolgo subito a lei, avvocato Carpentieri, le chiedo di raccontarci come nasce la vostra attività. Allora, all'inizio, quindi inizialmente ci occupavamo essenzialmente di crisi di impresa, quindi i nostri assistiti erano società. Poi ci siamo accorti man mano che c'era un vuoto, un vuoto che era necessario secondo noi col mare, ossia la tutela del debitore, quindi del privato che si trovava in gravi difficoltà finanziare e quindi si trovava indietro con i pagamenti delle diverse rate, quindi relative ai vari rapporti con le banche finanziarie, prestiti personali, mutui, leasing, carte revolving e ovviamente anche conti correnti. Quindi da questa necessità è sorto poi via via un blog, un blog in cui spiegavamo attraverso degli articoli specifici come potersi tutelare, il fatto che anche il debitore nonostante si trovasse in questa situazione, avesse dei diritti nei confronti delle banche e nei confronti delle diverse finanziarie. Il solo fatto di trovarsi in difficoltà economica poteva derivare da diverse ragioni per le quali non dovevano farsene una colpa, il fatto che ci fosse una via d'uscita in realtà era quasi sconosciuto. Quindi da questo blog è partito tutto, dopo il blog abbiamo aperto il nostro canale YouTube con più di 300 video, quasi 15.000 iscritti al canale e da lì poi sono sorti questi due libri in cui spieghiamo al debitore che essenzialmente ha la possibilità di trovare una via d'uscita ai propri debiti con le banche finanziarie in modo sostenibile. Cioè è possibile adempiere i propri obblighi ma in relazione alle proprie possibilità economiche. Il fatto che la banca sia un grande istituto non vuol dire che sia qualcosa di potente da cui scappare o comunque combattere perché in queste situazioni di grave difficoltà comunque gli istituti bancari vanno incontro alle persone però ovviamente bisogna essere, trovarsi in delle situazioni tali per cui ci sono le basi, le fondamenta per trovare giusti accordi. Quindi andare a individuare caso per caso la strategia personalizzata ovviamente per raggiungere poi una soluzione adeguata sia per il creditore che per il debitore in sostanza uscire dai debiti è possibile sempre quindi non è un problema vero e proprio e infatti in questo modo abbiamo dato consapevolezza ai più delle possibilità, delle grandi e diverse possibilità di tornare a una vita pressoché serena. Ecco a questo proposito appunto ci sono degli importanti anche aspetti psicologici di chi si trova in queste situazioni per cui le chiedo quali sono le maggiori paure e i maggiori timori di chi si trova in una posizione di debito. Sì, ha detto proprio bene perché si tratta di paura. Si vive nella paura, si vive nell'angoscia, si vive nell'insicurezza, molti anche nella vergogna. Deve sapere che in molti casi il proprio coniuge e i propri figli non sanno assolutamente nulla di questa crisi economica in cui versa il proprio familiare perché ci si nasconde. Quindi oltre al problema ci si ritrova soli ad affrontarlo. Noi lo sappiamo bene e rispettiamo queste condizioni e tante volte ci è capitato. In realtà, come ho detto, basta individuare la giusta soluzione, la giusta strategia perché ogni caso è a parte, ogni caso è a sé. Quindi una soluzione essenzialmente si trova sempre. L'angoscia, questa situazione di angoscia, in realtà poi ce la colliamo noi nel vero e proprio senso della parola. Infatti i loro problemi alla fine diventano realmente i nostri problemi. I nostri clienti, i nostri assistiti si trovano in una condizione di serenità, sanno di essere in mani sicure perché noi per ogni problema sappiamo assolutamente come uscirne, perché conosciamo bene quali sono i movimenti, quali sono le strade da intraprendere, sia per quanto riguarda rapporti di prestiti personali, conti correnti, finanziamenti, mutui, per ogni tipo di istituto bancario o finanziario. Finanziaria sappiamo come muoverci e come aiutarli ad uscire da questa condizione in modo veramente semplice. Sembra strano, ma in modo semplice. Quindi quello che provano poi è sollievo, sollievo e il fatto di ritornare tranquillamente a respirare in modo normale senza questi pensieri puramente economici, senza dover affrontare queste problematiche puramente economiche perché noi sappiamo la vita già di per sé ci mette alla prova, già di per sé è dura, ci sono altri tipi di problemi. Infatti quando noi diciamo ai nostri clienti che non vedono una via d'uscita, che si sentono oppressi, che in realtà non è così, non è questa la situazione da cui non poter venirne fuori. I problemi veri sono ben altri. Anche, finanche, non so, poniamo il caso dei mutui. Molte persone, soprattutto dopo il Covid, si sono sentiti in forte difficoltà col pagamento delle rate, sospensioni a parte, sospensioni anche delle procedure esecutive. Poi dopo è tutto ripartito come prima, più veloce di prima, ma anche lì, anche lì è sempre possibile trovare un accordo. Quindi la possibilità di non perdere la propria casa fino alla fine c'è, c'è, assolutamente c'è. E non ce la siamo inventate noi, ovviamente. Sempre grazie a quelle che sono le normative di legge, quelli che sono gli incontri, gli accordi con i funzionari delle banche, con i legali delle banche. Quindi il fatto di venirsi incontro e trovare una giusta soluzione è fattibilissimo. E devo dire anche grazie, grazie alla nostra squadra. Quindi non siamo soli, soprattutto oggi, perché il detto che da soli, ok, si va molto veloce, però insieme si va più lontano, è vero, è vero. Ecco, Avvocato Cacciola, io adesso mi rivolgo a lei, come diceva giustamente l'Avvocato Carpentieri, il vostro ruolo è proprio quello di indicare la strada, la via d'uscita ai vostri clienti. Le chiedo se puoi entrare più nel dettaglio di quello che, in cosa consiste il ruolo del consulente legale. Il nostro studio legale assiste a 360 gradi il debitore. Ovviamente ci sono vari strumenti che la legge ci mette a disposizione per risolvere le varie problematiche di debito, con banche e finanziarie. Le cose che facciamo quotidianamente principalmente sono il saldo estralcio per ridurre i debiti, quindi l'importo del debito, l'ammontare, la rinegoziazione delle rate per ridurre drasticamente le rate. Poi facciamo, in alcuni casi, non sempre, anche le procedure di sovraindebitamento, che attualmente vengono molto abusate, ma si possono contare sul contagocce i casi in cui effettivamente ci sta a fare una procedura di sovraindebitamento, soprattutto quando sono casi molto più gravi. Poi molto spesso capita, soprattutto nell'ultimo periodo, ma così come anche in passato fondamentalmente, che gli istituti di credito, nel momento in cui non riescono a recuperare i propri crediti, facciano anche causa ai clienti, quindi ci capita che magari ci siano varie azioni legali, per cui è necessario fare opposizione. Tendenzialmente questi sono gli strumenti che noi utilizziamo, le strategie che usiamo per cercare di rendere sostenibile delle situazioni di iperindebitamento, di sovraindebitamento. La forza del nostro studio, per la quale poi ovviamente abbiamo avuto anche il premio come migliore studio legale d'Italia, è che grazie all'esperienza ultradecennale e grazie alle migliaia di persone che aiutiamo ogni anno, che gestiamo svariate migliaia di pratiche ogni anno, siamo in grado precisamente di predire, quindi prima di acquisire il cliente, quali sono le soluzioni per ogni singolo caso e ogni singola banca o finanziaria, conoscendo le procedure di tutti fondamentalmente. Quindi andandolo a prevedere siamo in grado di pianificare la strategia migliore anche quando si hanno tanti debiti, anche quella più economica per il cliente e soprattutto individuare precisamente quale sarà la risoluzione, per cui abbiamo la possibilità in tal modo di acquisire clienti che abbiano quella determinata volontà di risolvere e in quel determinato modo, evitando di alimentare delle false speranze in caso di persone che hanno delle aspettative irragionevoli, che questa è la forza più importante. Noi quando ci prendiamo un cliente, quando acquisiamo un nuovo incarico, lo acquisiamo solo sulla consapevolezza che possiamo aiutare quella determinata persona, altrimenti non l'acquisiamo e per questo motivo qua diamo anche la garanzia del risultato che possiamo ottenere, cioè quello che abbiamo detto fondamentalmente al cliente, in modo tale da dare ancora maggiore fiducia e tranquillità, perché come diceva l'Avvocato Carpentieri, quello che cercano i nostri clienti, quello che cercano le persone che sono in estrema difficoltà economica è ritrovare un attimo di serenità, un attimo di pace e uscire dai debiti e devono essere condotti con la mano a raggiungere il risultato desiderato, che poi è quello di ritornare a vivere sereni. Quello che noi facciamo è trasformare le situazioni di iperindebitamento, di sovrindebitamento in situazioni di sostenibilità. Una persona che ha fatto i debiti è giusto che paghi, che onori i propri debiti, ma se ci sono state delle condizioni che hanno determinato una variazione dello stato economico della famiglia, una perdita del lavoro, una malattia e quindi le entrate sono diverse, quella persona deve essere messa in condizione di riuscire a pagare o riducendo le rate attraverso lo stralcio, siamo arrivati anche a ridurre di oltre il 90%, in alcuni casi ovviamente dipende, o riducendo le rate mensili anche del 70% ogni mese, o nei casi peggiori appunto facendo anche le procedure di sovrindebitamento con l'obiettivo di far ritornare la serenità in famiglia, che è la cosa più importante. Certo, ho fatto un cenno all'importanza del risultato, le chiedo quali risultati avete ottenuto nel corso di quest'anno. Allora, noi abbiamo ottenuto grandissimi risultati, li otteniamo quotidianamente, abbiamo un team molto grande, da quando abbiamo iniziato, siamo partiti da soli fondamentalmente come liberi professionisti, oggi il nostro team conta più di 20 collaboratori, quindi fondamentalmente abbiamo inculcato ad ogni persona che collabora con noi tutte le nostre, prima ovviamente il nostro principio di etica, di professionalità e tutti i nostri valori, che oltre alla mission aziendale del nostro studio, ma soprattutto poi tutte le procedure per assistere nel migliore dei modi i nostri clienti. Quindi ogni nostro collaboratore sa precisamente come si possono andare a definire tutte le posizioni, ovviamente in base ai singoli ruoli, e riusciamo a chiudere tutti i giorni tantissime transazioni. Come dicevo prima, noi gestiamo migliaia di pratiche ogni anno e quindi fondamentalmente abbiamo una casistica talmente tanto ampia che ci permette ovviamente di predeterminare il risultato che riusciremo a portare in virtù ovviamente di determinati parametri per ogni singolo cliente. I risultati sono eccezionali, faccio riferimento ad alcuni risultati ultimamente ottenuti su alcune pratiche di mutuo, ad esempio, dove siamo molto attivi nel saldo estrarcio sul mutuo. Abbiamo giuso per esempio delle pratiche da 130.000 euro a 30.000 euro, un'altra 156.000 euro, 29.000 euro, anche in varie rate, ma tendenzialmente al di là del mero aspetto numerico, perché anche dal punto di vista della riduzione delle rate, mi viene in mente un nostro cliente che aveva 1.600 euro di rate mensili, le abbiamo portate a 400 euro ottenendo anche degli sconti importanti sugli importi. La cosa fondamentale, ribadisco, per me è legata alla sostenibilità, legata alla individuazione di tutte le posizioni. Noi facciamo anche una consulenza iniziale gratuita, proprio per capire se possiamo aiutare il cliente in che modo e se per il cliente la soluzione da noi proposta va bene per lui, cioè fondamentalmente è ragionevole, diciamo in quel senso lì. Nel momento in cui determiniamo quello, l'obiettivo è riportarlo a una situazione di sostenibilità. Quindi paradossalmente quello che noi cerchiamo di evitare in tutti i modi, anche perché essendo uno studio legale siamo in grado di affrontare a 360 gradi la materia del debito senza doverci concentrare soltanto su una cosa. Cioè non è che facciamo solo il saldo e stralcio o solo il sovraindebitamento come magari fanno altri. Noi analizziamo la situazione, in base alla situazione cuciamo il vestito, la strategia al cliente e lo conduciamo al risultato sostenibile per lui. Andare a chiudere una pratica di 100.000 euro a 10.000 euro potrebbe essere un grande risultato, ma non lo è. Non sempre lo è. Perché? È vero che io ho risparmiato 90.000 euro, ma se 10.000 euro li devo trovare domani e sto pieno di debiti, come faccio a trovarli se magari ho perso il lavoro o sto in cassa integrazione? Non lo potrò fare. Quindi quell'accordo che può sembrare valido non è in realtà valido, perché non è sostenibile. Quindi la cosa fondamentale, al di là di parlare di cifre che possono dare delle idee o magari tutti quanti vorrebbero ottenere degli sconti del 90%, del 70% o qualsiasi... Non è tanto quello, perché in base alla situazione che noi troviamo l'accordo migliore per il cliente, inteso proprio come sostenibilità. Questa è la chiave della nostra attività. Da questo punto di vista tutte le nostre energie sono rivolte a quei risultati per i nostri clienti e grazie a questo possiamo vantare oltre migliaia di recensioni, tutte positive, proprio perché selezioniamo i clienti non tanto in base a quello che possiamo fare, ma soprattutto in base a quello che loro vogliono fare. Perché se c'è una pretesa irragionevole, diciamo tranquillamente al cliente, che non si può raggiungere quel determinato risultato, e se invece c'è una volontà di risolvere nel migliore dei modi, noi indichiamo qual è il migliore dei modi per ogni singola posizione, perché sappiamo come poter risolvere ogni singola posizione nel migliore dei modi. Quindi chi si affida a noi ha questa certezza fondamentalmente, grazie al fatto che oltre al premio effettivamente il numero di pratiche che gestiamo ci permette di dire, di affermare tranquillamente che il nostro studio è lo studio più grande in Italia in questa materia di crisi di debito. Certo, quindi insomma, Avvocato Carpentieri, l'Avvocato Cacciola ha fatto il quadro degli importanti risultati ottenuti in questo 2021, siamo ormai in chiusura d'anno, possiamo dire, le chiedo gli obiettivi per il 2022. Gli obiettivi per il 2022? Avvicinarci ancora di più ai nostri assistiti territorialmente parlando, anche se noi nasciamo più di dieci anni fa con un blog, fondamentalmente noi nasciamo dal web, siamo in contatto, in stretto contatto con chi ha difficoltà con il pagamento delle diverse rate, con le banche, le finanziarie online, però abbiamo deciso anche di farci trovare fisicamente nelle maggiori città italiane, dal nord al sud, isole comprese. Quindi il nostro obiettivo è essere presenti anche fisicamente, quindi nelle maggiori città. Quindi l'aspetto fondamentale per noi però è uno solo e rimane sempre quello, il nostro team, la nostra squadra, assolutamente deve condividere quelli che sono i nostri valori, quella che è la nostra etica e la nostra mission, che dall'inizio è stata quella di dare una mano, fondamentalmente a chi non sa di avere una possibilità e una risoluzione fattibile dei propri problemi economici. Avvocato Cacciola, un'ultima domanda. Chiaramente in questo settore legale, come in tutti gli altri, la concorrenza sarà elevatissima, per cui le chiedo in cosa effettivamente vi differenziate rispetto agli altri studi. Come studio legale noi siamo lo studio più storico online, perché siamo online da oltre 12 anni e dall'inizio ci abbiamo messo la faccia, la faccia sia su tutto quello che facciamo in particolar modo attraverso i video. Noi abbiamo il canale YouTube verticale, cioè più importante in Italia in materia di crisi di debito, che conta quasi 15.000 iscritti, oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, dove ci sono attualmente più di 350 video, ogni settimana vengono pubblicati altri 4 video ai fini informativi. Quindi noi abbiamo aiutato attraverso questi video a far prendere consapevolezza ai debitori, gente che ha debiti fondamentalmente, in modo tale da poter risolvere anche, tra virgolette, da soli alcune situazioni, soprattutto quelle più piccole, e in particolar modo a gestire tutte le sensazioni, tutti i sentimenti che molto spesso negativi portano dal momento di non pagare più debiti a eventualmente delle azioni legali, alle attività di recupero crediti che vengono fatte. Nell'ultimo periodo, causa anche Covid, molta gente non è riuscita a pagare. Quindi, dato che tantissima gente non è riuscita, sono nati tantissimi competitor, tantissime agenzie dal nulla, spuntate dal nulla, che dicono di aiutare i debitori. Molto spesso però, non avendo basi solide, e soprattutto non essendo uno studio legale fondamentalmente, non riescono a seguire a 360 gradi i debitori, cioè le persone che si trovano in difficoltà, per cui cercano di indicare, individuare delle soluzioni che non sono complete. Andare a gestire soltanto il rapporto con la finanziaria, o lasciare una persona in preda a se stesso, non significa aiutarlo, perché porto spesso un esempio, è come se io dico devo aggiustare l'auto perché c'è un problema con il motore, è inutile che la porto dal carrozziere e poi se non me la riesce ad aggiustare la porto dal meccanico. Avrebbe senso farsi seguire direttamente da chi può gestire anche eventualmente il contenzioso legale, perché avere problemi legali di debito bisognerebbe rivolgersi a chi può gestire e risolvere questi problemi legali, quindi chi meglio di uno studio legale fondamentalmente, chi uno studio di avvocati per risolvere queste cose. Dall'altro lato ci sono tantissimi che invece propongono la pratica di sovraindebitamento come l'unica strategia per risolvere tutti i mali. Noi abbiamo iniziato a fare il sovraindebitamento all'inizio, cioè 2013, 2014, 2015, quindi in periodi in cui non esistevano nemmeno gli organismi di composizione della crisi. In quei periodi era una pratica eccezionale, era economica e effettivamente nessuno sapeva come si potevano risolvere determinate cose, per cui si riuscivano ad ottenere anche dei risultati eclatanti, eccezionali. Successivamente con l'istituzione degli organismi di composizione della crisi nel 2018 sono aumentati drasticamente i costi e anche i requisiti per poter accedere e per poter usufruire di determinati benefici sono diventati estremamente stringenti, per cui oggi su circa 800.000 persone con cui parlo ogni mese io lo propongo in genere a 5-6 persone, perché le altre non hanno i presupposti e soprattutto perché le altre possono risolvere i loro problemi in modo estremamente più economico e più sicuro trovando degli accordi stragiudizialmente, senza dover fare procedure di sovraindebitamento, il cui rischio è ritrovarsi ad aver speso magari dai 5-10.000 euro senza aver concluso nulla. Questo per dire che cosa? Allora qua l'ambito del debito è molto vasto. La cosa più importante che abbiamo noi è che conosciamo precisamente dalla A alla Z come si può chiudere qualsiasi tipo di pratica. A chi può essere venduta, quindi anche le società che acquistano i crediti, e che cosa possono fare? Nel momento in cui andiamo a predeterminare una situazione e dovesse cambiare la condizione economica del nostro cliente, possiamo resettare la strategia individuando altre strategie, perché lo possiamo fare. Nel caso in cui invece ci si rivolge a qualcuno che può seguire soltanto una parte del percorso, che magari è solo la parte stragiudiziale, che cosa succede se cambiano le situazioni, magari quel determinato piano non può essere rispettato? Succede che bisogna rivolgersi per forza a un avvocato, magari dopo aver speso già dei soldi di consulenza e di altri. Questa è la cosa per la quale noi ci differenziamo di base, che noi seguiamo a 360 gradi senza avere alcun tipo di preferenza su una determinato tipo di procedura, perché il concetto di fondo è, noi analizziamo prima le problematiche del cliente, capiamo i suoi obiettivi, le sue aspettative, in base a quello determiniamo quali può essere la migliore soluzione al suo caso specifico, avendo tutti gli attrezzi a disposizione per risolvere quel determinato problema e per risolvere gli eventuali imprevisti che possono tranquillamente succedere all'interno della vita di una persona, perché magari marito e moglie lavorano, la moglie perde il lavoro, quel piano fatto non può essere più rispettato. Allora che cosa dobbiamo fare? Non lo so, dovete obbligatoriamente fare questo accordo, perché non so come farvi prendere altro tempo ed aiutarvi. Questo non va bene, perché la consulenza per noi è un modo per risolvere a 360 gradi la problematica del cliente e rendere i suoi debiti sostenibili, perché come ho detto prima, è necessario per chi ha fatto debiti onorarli in maniera sostenibile. Per poter seguire questo iter, soprattutto se si hanno tanti debiti, è necessario l'assistenza di uno studio legale specializzato in materia che non ha preferenze verso una determinata procedura, perché se noi iniziamo a fare per tutti una stessa cosa, è come se andiamo a comprare la maglia della stessa taglia per tutti e non va bene fondamentalmente. Altra cosa essenziale, oltre alla storicità, al fatto di poter seguire a 360 gradi il cliente a risolvere i propri debiti, è fondamentalmente il fatto che noi ci assumiamo la responsabilità, oltre che mettendoci la faccia su tutte le cose che diciamo, perché con il canale YouTube è così, anche attraverso la garanzia del risultato. Come detto prima, se io posso aiutare un cliente, è giusto per dargli anche maggiore fiducia che rischi insieme a lui nello svolgimento della nostra attività. Questo è un modo per farci sentire ancora più vicini al cliente e soprattutto per dargli la serenità che può contare su di noi e può risolvere tramite noi tutti i suoi problemi. Bene, io vi ringrazio molto per essere stati con noi, vi rinnovo i complimenti per la vostra realtà, per quello che fate quotidianamente, realtà che le fonti ha certificato con l'importante riconoscimento che avete ottenuto, grazie all'Avvocato Elvira Carpentieri per essere stata con noi e grazie all'Avvocato Francesco Cacciola. Grazie a voi. Grazie di nuovo e un saluto ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata dell'intervista di Legal Le Fonti TV. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti